Ci sono delle regole, ci sono delle quasi impossibilità di comprendere, di comprendere. Noi abbiamo fatto il modo che questo festival, partendo appunto con un'arte che è molto più, diciamo, popolare, potesse aprirsi a un pubblico vario, vasto e diversificato anche per poter godere degli spettacoli d'azza contemporanea e gli spettacoli sono sufficienti proprio per dare una diversificazione innanzitutto delle proposte. La nota coranea è un nome che comprende molti aspetti di questa proposta. Si va da un neoclassico a un performativo, a uno sperimentale e via dicendo. La strada aperta da tanti anni ci permette poi di proporre e di formare il pubblico anche attraverso un incontro diretto con gli artisti, per esempio.